Buongiorno a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video. Molti di noi avranno avuto un PC con logo Intel Vive posto sul case del PC. Bene, che cos'erano i processori Intel Vive o Intel Vive? Partiamo dal presupposto che quando parliamo di Intel Vive non parliamo solamente di un componente come proprio il processore ma di un intero pacchetto distribuito tra hardware e software. Anche se noi in questo video vedremo solo in generale questa tecnologia e in particolare i processori che ne fanno parte. Cosa differenzia un computer Intel Vive da un normale computer? Allora la tecnologia Vive è stata sviluppata soprattutto per PC ad uso domestico e in particolare per PC da salotto e cioè PC in grado di svolgere azioni di intrattenimento multimediale e digitale come poter guardare programmi in diretta, registrarli, metterli in pausa, accedere a contenuti on demand, scaricare videogiochi, film, musica, gestire foto, ritoccarle e altro ancora. Vi sono state diverse versioni di Intel Vive come la prima 1.0, la 1.5 e qualche altra ancora. Sostanzialmente ogni versione nuova aggiungeva o migliorava qualcosa alla precedente. Il formato del case dei PC dotati di questa tecnologia poteva variare dai classici case desktop ai più compatti per poter venire messi in salotto senza occupare troppo spazio. Inoltre un PC Intel Vive dava la possibilità di collegarsi alla televisione e di controllare il tutto grazie ad un telecomando. La tecnologia Intel Vive è stata presentata sul mercato il 5 gennaio 2006 e il suo nome tecnico era East Fork. Un PC per essere dichiarato Intel Vive doveva avere dei requisiti tra cui il processore, il chipset e la scheda di rete. Sicuramente si troveranno sul web delle liste più o meno complete che schematizzeranno i processori che venivano inclusi nella piattaforma Vive. Mentre qui per farla breve sintetizzo dicendo che i processori inclusi in questa tecnologia partivano dai Pentium D per arrivare ai Core 2 Quad. Inoltre c'è da dire che Vive è stata una piattaforma che potremmo dire deriva da un'altra piattaforma Intel pensata per i notebook che è la Intel Centrino o Intel Centrino. Una piattaforma introdotta nel 2003 della quale probabilmente parleremo in un altro video. La piattaforma Intel Vive è stata interrotta intorno credo al 2009. Sul fronte opposto AMD ha anche lei a sua volta sviluppato qualcosa di simile. Un esempio può essere la piattaforma AMD Live. I sistemi operativi utilizzati per questa piattaforma, visto che prima abbiamo parlato di requisiti hardware e software, bene tra i requisiti software potremmo dire, troviamo come sistema operativo Windows XP Media Center Edition e Windows Vista. Se non sbaglio Windows Vista Home Premium è la versione Ultimate, penso che si pronunci, perdonate la pronuncia se non è corretta. E quindi sistemi operativi che già di base hanno un sistema operativo contenente software adatti all'uso multimediale. Troverete in descrizione una pagina che vi porterà a Wikipedia nella quale potrete vedere i due loghi che sono stati impiegati per rappresentare il logo della tecnologia Intel Vive. Siccome il mio PC è un Intel Vive vediamo da ritrovare in esso alcuni dei requisiti elencati in questa parte del video. Ed eccoci qua per la seconda parte di questo video. Allora iniziamo dal software. Abbiamo visto che la piattaforma Vive comprendeva alcuni requisiti sia hardware che software, mentre software abbiamo parlato di Windows Vista e Windows XP Media Center. Questo è Windows XP Media Center Edition. E lo si capisce grazie anche alla barra start che è leggermente diversa e leggermente più stilizzata rispetto alle altre versioni di Windows XP. Inoltre in Windows XP Media Center Edition abbiamo appunto un software che forse accennavo già prima che si chiama Media Center ed era il software grazie al quale era possibile collegando un'antenna vedere i programmi televisivi, registrarli e avere insomma una serie di altre possibilità, di altre applicazioni relative appunto al multimediale in generale. Quindi era un software anche molto completo. Inoltre abbiamo qui la scheda tecnica di questo computer che ci fa già capire, già quando si comprava questo computer evidentemente, il tipo di uso al quale questo computer era destinato. Vediamo, ho capito a video il Media Center TV. Ecco quindi già questo era insomma palese, insomma palesava il fatto che questo computer alla fine era, poteva essere tranquillamente un Intel Vive, già solo leggendo la presentazione. Vediamo subito un altro requisito che diciamo caratterizzava Intel Vive. Abbiamo visto erano tre requisiti hardware principali ed era il processore, la scheda di rete e il chipset. Il chipset tra i vari chipset che potevano far parte della tecnologia Vive c'era il chipset P965 e se vediamo appunto vediamo che qui compare chipset P965. Adesso vediamo ancora qualche piccola cosa correlativa al computer e poi concludiamo il video. Ecco per quanto riguarda il computer vi mostro semplicemente due cosette. Allora qui abbiamo il logo originale Intel Vive e abbiamo su questo computer, inoltre ad avere il chipset P965 che abbiamo visto, abbiamo originariamente un processore Core 2 Duo quindi che rientrava nei requisiti che caratterizzavano l'Intel Vive e attualmente monta invece un processore che è stato appunto aumentato, è stato upgradato, monta ancora i due quad che sempre poteva rientrare nella tecnologia Vive. Inoltre abbiamo anche dietro, adesso vi mostro la scheda TV che è l'ultima, grazie alla quale si poteva inserire l'antenna televisiva e potersi godere grazie anche al programma Media Center in diretta i programmi televisivi. L'ultima cosa ecco qui avevamo anche originariamente un telecomando grazie al quale si poteva controllare il computer senza muoversi appunto grazie al telecomando e purtroppo il telecomando non ce l'ho qui però prendeva il, cioè questo dispositivo e riceveva il segnale dal telecomando. Insomma questo è un po' il tutto. Vi ringrazio per aver guardato questo video, un saluto a tutti e al prossimo video.